Conto alla rovescia per il tentativo di allunaggio dell'ender giapponese Slim. Il veicolo, soprannominato Moon Sniper dall'Agenzia Spaziale Giapponese JAXA, inizierà la discesa verso il suolo lunare a mezzanotte di sabato 20 gennaio in Giappone, le 16 di venerdì 19 gennaio in Italia. Se tutto andrà come previsto, il touchdown dovrebbe avvenire circa 20 minuti più tardi. Il veicolo lunare Slim è stato lanciato lo scorso settembre insieme alla missione XR-ISM, guidata da JAXA in collaborazione con NASA ed ESA, che ha già iniziato a effettuare le sue prime osservazioni del cosmo a raggi X. Dopo la separazione, Slim ha iniziato il suo lungo viaggio di circa quattro mesi prima di raggiungere l'orbita lunare. Il lander si prepara adesso a quello che nei piani di JAXA sarà un allunaggio di precisione, all'interno di un'area di 100 metri, contro i diversi chilometri che in genere circondano la landing zone. Una manovra ambiziosa, che se avrà successo renderà il Giappone il quinto paese a portare un veicolo sulla superficie del nostro satellite, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica, Cina e India.